Posa della prima pietra simbolica oggi per il ponte Belvedere, dopo ci saranno 200 giorni previsti da contratto per il montaggio della struttura. I lavori di cantilizzazione in realtà sono già iniziati ma si tratta di un processo abbastanza complesso. Rispetto all'importo iniziale previsto c'è stata una variante suppletiva che ha fatto parte già del progetto e approvata con soldi già trovati. Il costo finale dell'opera sarà dunque di 4 milioni e 600 mila euro. L'aggiornamento dei prezzi, tanto contestato dalle opposizioni, è stato un obbligo di legge e fanno presente un'opera che sarà certamente moderna e utile in termini di viabilità e che cambierà pure lo skyline della città dell'Aquila. Serviranno circa 200 giorni di lavorazioni per un'opera assolutamente avveniristica che segnerà anche in maniera indelebile il percorso di ricostruzione della città dell'Aquila. L'abbiamo detto a più riprese, non ci si poteva arrendere all'idea del com'era e dov'era ovunque, a prescindere da tutto. Abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo fatto fare dai tecnici le valutazioni, ci sarà un nuovo ponte che ricollega la parte più antica della città, gli insediamenti che dall'inizio del Novecento in poi hanno interessato quest'area. Sarà anche un'attrattiva, io credo, e disegnerà la capacità dell'Aquila di sapersi rinnovare. Ma i lavori che anticiperanno il montaggio del ponte sono tutt'altro che semplici. Ci sarà un'ulteriore demolizione di un blocco che si era pensato inizialmente di poter tenere. Ci sono molte opere, ci sono delle opere di demolizione che devono essere completate sul lato di Viale Papa Giovanni XXIII e che attengono alla parte di variante approvata nel mese di luglio. Dopodiché ci sono da fare tutte le opere di cantierizzazione da entrambe i lati, quindi sia le vie di accesso e sia le piazzole di manovra, delle macchine che dovranno operare per realizzare le opere di fondazione. Sono opere molto invasive, non invasive.